ciao e benvenuti in questo nuovo video io sono gabriele oggi siamo in valpellice vicino ad angrogna tra luserna san giovanni e torrepellice andiamo a fare una passeggiata per ammirare il foliage autunnale abbiamo scelto questa passeggiata perché è tutta in pieno sole e anche asfaltata quindi quei passeggini sicuramente riusciamo a percorrerla in modo agile andiamo a scoprirla insieme sigla abbiamo trovato parcheggio qui abbiamo percorso circa un chilometro in macchina dalla rotonda c'è una rotonda col cartello angrogna 5 chilometri e poi appunto subito dopo si trova questo parcheggio andiamo a camminare insieme ma volevo ricordarvi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale attivate la campanella e lasciateci un like grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. La bialera Peirota che è appunto questo fiume che già a partire dal 1400 è stato sfruttato dalle comunità qua della zona sia per alimentare un mulino e sia appunto come rifornimento idrico per le abitazioni. Guarda le pecorelle nere, guarda che belle. Guarda le pecorelle. Guarda le pecorelle. Siamo quasi arrivati La nostra destinazione è una passeggiata Veramente molto leggera oggi Si vede laggiù c'è il belvedere Quindi andiamo lì, facciamo pranzo Abbiamo un po' di panini Qualche piedina per i bimbi E ne approfittiamo Prendiamo quest'ultimo sole di autunno Dove siamo Pede? Qua Ma mangiare Allora buon appetito Sono due banchine Una qua e una lì Due pastine È buona? Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito flana Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 Al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.